Casi di infezione gastrointestinale di natura sconosciuta a San Valentino e nelle zone limitrofe nel Pescarese. Una cinquantina al momento le persone che hanno manifestato sintomi tra cui dissenterie e vomito. Il comune già da ieri si è azionato con il sindaco Antonio D'Angelo predisponendo accertamenti per la verifica della qualità delle acque. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza con il vice sindaco Sciambra. Cosa sta accadendo a San Valentino? Ma è accaduto semplicemente che nella prima mattinata di ieri ci sono arrivate delle segnalazioni di diversi casi di persone che avevano avuto vomito e diarrea. Quando abbiamo compreso che questo fenomeno in qualche modo stava interessando più persone abbiamo immediatamente fatto un avviso a tutta la popolazione consigliando di non usare l'acqua per fini potabili se non previ a bollitura. Abbiamo nelle ore successive, quindi nel corso della giornata di ieri, attivato un presidio di protezione civile perché abbiamo voluto dare supporto alla popolazione per la consegna di acqua potabile acquistata a prossimi supermercati e poi abbiamo anche chiesto al farmacista del paese di aprire la farmacia, benché non fosse di turno. Contestualmente però ci siamo preoccupati di attivare immediatamente di attivare immediatamente i laboratori di analisi che per conto del comune monitorano periodicamente la qualità della nostra acqua chiedendo di fare non solo dei sopralluoghi ma soprattutto delle analisi molto approfondite per avere un quadro assolutamente chiaro di tutta la situazione della conduttura. Le analisi che stanno facendo in questi minuti quindi contiamo di avere i risultati prima possibile. Non appena sanno pronti noi chiaramente siamo pronti a prendere i provvedimenti che sono di nostra specifica competenza e se si tratterà di interessare altri organi proposti come per esempio la ASLO che saremo come dire pronti a chiedere la dovuta collaborazione di tutti. Come ad esempio l'ARTA, l'Agenzia per la tutela dell'ambiente e il direttore Maurizio Dionisio. Siamo stati avvertiti tempestivamente dall'ASL di Pescara, i nostri laboratori in questo caso effettueranno i prelievi o utilizzeranno il liquido già oggetto di campionamento da parte dell'ASL e i laboratori in brevissimo tempo individueranno quale può essere l'agente o inquinante o batterio che ha provocato la mentele da parte della popolazione colpita. Grazie a tutti.